La mattinata licatese di oggi è iniziata con un incidente. Intorno alle 9.30 infatti un pedone è stato investito nei pressi del primo ponte sul Salso, il Federico II di Svevia. Si tratta di un uomo di Licata di 47 anni, che nell'attraversare la strada, che come di consueto era intensamente trafficata, è stato investito lateralmente da un pullman di linea che collega il centro con il quartiere Playa, che proprio in quel momento stava proseguendo verso il capolinea. L'uomo, forse per una distrazione, si è trovato scaraventato a terra, anche se per fortuna non è stato colpito frontalmente. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani per verificare la dinamica dei fatti e l'icatese è stato condotto presso l'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, dove gli è stata immediatamente effettuata un'attacca, ma attualmente è in prognosi riservata. Grazie a tutti.